Siamo con il prefetto Pulpiani, una mostra importante questa di Sant'Egidio, ospitata all'interno dell'Ex-Depot, centro polifunzionale dedicato all'arte, al cibo e alla cultura, un fiore all'occhiello del decimo municipio. E' veramente impressionante la partecipazione che hanno dato a questo evento, che non fa differenza tra, come diceva qualcuno prima, tra i meno abili e i più abili, o tra persone giovani e persone anziane come me, con i capelli bianchi. Questo testimonia anche la volontà di una comunità, quella di Ostia, di esprimere se stessa attraverso tutte le sue forme. Questi ragazzi, attraverso questi artisti, oltre che ragazzi anche artisti, hanno espresso i sentimenti che vengono dalla loro voglia di partecipare con tutta la forza alla vita sociale di questa comunità. Grazie